Ben trovati ai telespettatori di Provincia TV. Quest'oggi si sarebbe dovuto tenere un confronto tra i cinque candidati a sindaco del Comune di Santa Marinella. L'emittente Provincia TV ha interesse a far conoscere quello che è il panorama politico in queste elezioni che sono importanti, visto che il Comune di Santa Marinella dall'ultimo censimento ha anche superato i 15 mila residenti che, uniti anche tantissimi turisti che d'estate popolano la città, fa di Santa Marinella un comune importante per il litorale nord di Roma. Quando abbiamo pensato a questo confronto tra i cinque candidati abbiamo sentito naturalmente i cinque candidati, i quali ci hanno dato tutti quanti il consenso a partecipare a questo confronto. A 48 ore precedenti a questo momento, siamo in diretta, è arrivato un fax con la firma di quattro candidati sindaco, che vado adesso a leggere. Dopo aver ricevuto l'invito da Codesta, aspettabile redazione e valutata l'ipotesi sulla presenza o meno all'interno dello speciale elezioni 2013, riteniamo si visia da parte della testata giornalistica alla provincia un comportamento inspiegabilmente di parte, tranne per un giustificato motivo se il candidato in lizza per le prossime elezioni abbia acquistato una pagina intera al giorno per la sua campagna elettorale. Altrimenti, ribadiamo, troviamo inspiegabile trovare una pagina ogni giorno da 20 giorni a questa parte a favore del candidato sindaco Roberto Pacheca, omettendo i più basilari codici deontologici dell'ordine dei giornalisti. A causa di questo comportamento abbiamo ritenuto inopportuno partecipare al vostro programma televisivo, rinunciando alla visibilità che lo stesso ci avrebbe procurato. Ringraziando comunque per la disponibilità, salutiamo distintamente questo fax alla firma di Renzo Barbazzo, Eugenio Fratturato, Massimiliano Fronti e Massimo Padroni. Dobbiamo fare delle precisazioni. La prima è ovviamente che Provincia TV e il Quodiniano della Provincia sono due testate giornalistiche separate e indipendenti e naturalmente l'una non è responsabile dell'altra. Oltre a questo siamo andati a vedere comunque la pagina in questione del Quodiniano della Provincia e apro pagina 9 di domenica 12 maggio, questa è la pagina in questione e si può vedere come questa è un'iniziativa del Quodiniano della Provincia per dare spazio a tutti i cittadini e i candidati che vogliono proporre dei nuovi progetti o comunque delle domande o dei commenti. Come vedete alla fine della pagina c'è scritto per proporre i progetti, rispondere all'intervista o rivolgere domande al sindaco scrivere agendachiocciolacivonline.it Quindi qualsiasi persona può appunto mandare un commento, una domanda o un progetto agendachiocciolacivonline.it Il fatto che fino adesso abbiano inviato solamente candidati o esponenti di centrodestra abbiano inviato dei commenti o delle domande questo naturalmente non è né una scelta né una responsabilità del Quodiniano della Provincia. Al di là di questo l'opportunità che Provincia di VU dava ai cinque candidati era un'opportunità per i candidati ma anche per i cittadini di Santa Maria Nella che avrebbero potuto in questa maniera conoscere a fondo quelli che sono i programmi elettorali dei cinque candidati. L'unico che si è presentato è il candidato sindaco Roberto Bacheca. Salve Bacheca. Buonasera. Procediamo quindi con lo spazio che naturalmente rimane all'unico candidato che si è presentato. l'intervista, a questo punto il confronto solitario ci sarà con Gian Piero Baldi. Salve Baldi. Buonasera a voi, buonasera al sindaco, buonasera a te. Eccoci qua. Allora partiamo candidato Bacheca con quella che è la domanda la situazione è occupazionale e in crisi in tutta la nazione. Quali sono le sue idee per questi altri cinque anni che lei vorrebbe appunto fare da sindaco di Santa Maria Nella? Abbiamo predisposto già sul fine della nostra legislatura la possibilità di poter avviare dei percorsi che possano dare risposte concrete su questo settore. Ovviamente lo dicevi, c'è una crisi generalizzata su tutto il territorio nazionale. Santa Marinella ovviamente non è esente da questa crisi nazionale e internazionale. però abbiamo predisposto dei punti focali. Il primo è la realizzazione del PUA che ci siamo quasi riusciti a arrivare fino in fondo dopo diversi anni di patizione di burocrazia regionale e di altri enti sovraocomunali. Detto ciò eravamo pronti a approvarlo in Consiglio Comunale, poi sono intervenuti 45 giorni di stop per le attività ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale e quindi siamo pronti a portare quel testo già condiviso tra l'altro corso balneari e Sib in Consiglio Comunale per essere approvato. Tale strumento darà la possibilità in tanto a chi ha una struttura balnearia esistente di fare qualche piccolo ampliamento e di rinnovare quelle strutture esistenti che sono un po' obsolete. Dall'altra metterà a bando 22 nuove concessioni per nuove attività, nuove aziende che potranno portare ovviamente nuovi posti occupazionali. Ciò, oltre a migliorare l'offerta turistica, potrà dare spazio a nuove realtà occupazionali. Abbiamo lavorato per i piani di insediamento produttivi. Dal 1975 ad oggi la nostra città non ha mai avuto una variante urbanistica per individuare una zona per gli artigiani. Ovviamente ha ospito, visto il momento di crisi, che tutti gli artigiani possano beneficiare alla fine del leader di questo nuovo strumento che il Comune di Santa Marina la sta predisponendo. Però anche lì è iniziato l'iter, la variante urbanistica, stiamo facendo la VAS, quindi non appena sarà terminato tutto questo percorso, i nostri artigiani potranno avere la possibilità di creare nuova occupazione, nuove attività artigianali e uno showrooms dove potranno mettere in mostra ciò che stanno costruendo nella nostra città. Abbiamo portato avanti la battaglia per il castello, che continueremo a portare avanti. Io stesso ho mandato lettere alla polverina, le quali non ho avuto risposta, ma tantomeno ne ho avute da Zingaretti allo stato attuale. Su questo tema noi siamo convinti che avere un castello di Santa Severa che possa creare turismo, occupazione e soprattutto essere il volano di tutto, non dico il centro Lazio, ma comunque delle città limitrofe, possa essere anche dal punto di vista occupazionale un incremento importante per i nostri giovani, con professionalità, con realtà che verrebbero ovviamente a investire su quel tipo di settore. La nostra idea principale che abbiamo anche portato avanti nel quinquennio passato era l'ampliamento del porto, su cui ancora ovviamente ci contiamo e che vogliamo che possa essere anche lì un volano. Cioè va da sé il fatto che se un porto come quello di Santa Maria l'ha passato 250 posti in barca a quasi 1000, ciò crea direttamente o indirettamente nuovi posti di lavoro. Allora, diamo la possibilità, ecco Gian Piero, una domanda appunto al candidato Bacheca. Sì, grazie Luca, vorrei fare prima di tutto una precisazione, che è quella che naturalmente il sindaco ci ha dato moltissimi punti importanti e giustamente vorrei poi rimarcarli successivamente con delle domande specifiche che lo sindaco. La prima cosa che voglio dirgli è questa qua, ci abbiamo due comunicati, uno più bello per lei e uno meno bello, quale vuole per prima? Diciamo da quello meno bello. Quello meno bello. Allora, quello meno bello naturalmente è un comunicato che manda il centro anziani comunale di Santa Marinella che come le sa rischia tra qualche giorno di chiudere. Perché? Perché ovviamente ci sono stati dei grossi problemi e per il momento loro hanno perduto il contatto telefonico, non hanno più telefono e rischiano di perdere naturalmente l'erogazione dell'acqua tra qualche giorno. Hanno mandato un comunicato, voglio leggerlo anch'io, come ha fatto prima Luca con quello dei candidati sindaco, qui dice che i soci del centro anziani comunale vogliono rendere noto alla cittadinanza e anche al sindaco lo stato vergognoso e indecoroso in cui il comune li ha costretti a sopravvivere nella sede loro assegnata da ben 10 anni. Senza vari motivi il comune non ha rinnovato il contratto di affitto, di conseguenza le utenze di telefono, acqua, luce e gas non sono state rinnovate. Gli enti erogatori hanno cominciato a staccare il telefono, stanno temporaneggiando quelli di sacco dell'acqua e della luce, ma per quanto dal comune sono lettere menacciose, ecco come la nostra città è caduta in basso. Il centro anziani era il fioro all'occhiello e lo hanno distrutto. Come risponde lei a questa lettera? Rispondo che se è un attacco di carattere politico non ha nessun fondamento perché il sottoscritto, insieme all'epoca vice sindaco, molto vicino ovviamente alle esigenze degli anziani, ci siamo occupati di questa vicenda dal primo giorno. Sapete benissimo che sono cambiate le normative in merito, io ho fatto più riunioni con la dirigente che è la dottoressa Boliandri per risolvere il problema, abbiamo trovato vari percorsi che prima erano stati accettati e poi sono stati modificati nel corso d'opera, c'è tutta l'intenzione, tant'è che l'amministrazione comunale in dodicesimi ha ancora previsto e accantonato le somme per poter dare al centro anziani ciò che gli serve per pagare sia l'affitto che le utenze, il problema fondamentale è che l'attuale proprietario non vuole avere rapporti con il presidente e il presidente non se la sente di intestarsi le utenze, purtroppo è intervenuto, al di là che conosco la situazione che da dieci anni esiste con il centro anziani, esiste la spending review che prevede il taglio delle spese che non sono destinate a edifici pubblici essenziali, tra queste c'è anche quella del centro anziani, quindi purtroppo noi stiamo combattendo, io ho fatto anche ordinanze, ho fatto tutto quello che era il mio potere dal punto di vista politico per risolvere la situazione, ma se la responsabile, come tutti quanti voi sapete, visto che esiste una legge che era il tasto 1 e la 267, che prevede la differenzazione tra le responsabilità politiche e le responsabilità degli amministrativi, soprattutto dei dirigenti, se non se la prendono questa responsabilità, purtroppo non facciamo passi avanti su questa situazione, a meno che non ci sia un passaggio e si vengano incontro sia al proprietario dell'immobile che al presidente del centro anziani. Io proverò domani, appena mi sarà data anche a me questa lettera, visto che è stata data prima alla stampa piuttosto che al sindaco, proveremo domani a fare l'ennesimo summit con la dirigente per cercare di risolvere il problema, ma è ovvio che se esistono disposizioni legislative io non posso prendere una pistola, puntarla in testa al dirigente e costringerla a fare ciò che ritiene che non si possa fare. Bene, ascolti questa lettera. Il 26-27 maggio è un appuntamento importante per la città, da cui dipenderanno molte cose che vi riguardano, la manutenzione e la pulizia delle tue strade, la tutela del mare e la valorizzazione delle tue coste, la sicurezza dei cittadini e l'assistenza sociale ai più bisognosi, la scorrevolezza del traffico e l'efficienza della pulizia municipale, oltre alla buona gestione delle strutture pubbliche di Santa Marinella, che sono anche due. In questi cinque anni il sindaco Roberto Bega e la sua giunta hanno dimostrato di essere veramente al servizio dei cittadini, riuscendo ad ottenere tra mille difficoltà concreti e importanti risultati. La realizzazione di 100 posti auto alla stazione ferroviaria, l'apertura della piscina comunale, la riqualificazione di 6 parchi pubblici, la realizzazione di due nuove mezze scolastiche. A queste opere presto ne aggiungeranno altre. La realizzazione di un'area artigianale utile alle piccole imprese e cooperative familiari del luogo e l'apertura di 29 nuove spiagge, che oltre ad offrire un beneficio per le famiglie del litorale romano, rappresentano una straordinaria opportunità di lavoro per i giovani di Santa Marina e della Santa Severa. Per tutti questi motivi, Bega e Camerita di essere riconfermato sindaco di questa città. Chi l'ha scritta? Una persona importantissima. Questa che ci è arrivata, lo so. È l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Come commenta questa lettera? Siamo piacevolmente sorpresi che il presidente abbia avuto almeno 10 minuti per poter pensare alla nostra città, per poter buttare giù delle righe e per essere informato di quello che noi abbiamo fatto in questi 5 anni. Quindi mi fa enormemente piacere il fatto che vi sia un suo interessamento e che soprattutto mi hanno confermato che è stata scritta di suo pugno. Voglio fare una domanda proprio inerentemente a questo. Ci sono state delle dichiarazioni del candidato sindaco Fratturato. Avremmo potuto confrontarci anche con lui se solo fosse stato qui. Però non abbiamo questa possibilità, quindi gli chiediamo a lei. Fratturato sostiene che il PDL romano, fatto il nome dell'onorevole Antoniozzi, sostiene lui. Naturalmente il simbolo che è già stato presentato del PDL è appunto da suo appannaggio. Però come commenta queste dichiarazioni? Commenterei come folklore, però a prescindere da ogni aspetto è pure probabile che non posso essere simpatica a tutti i deputati o consiglieri regionali o consiglieri comunali di paesi limitrofi che stanno nel popolo della libertà. Però mi sembra abbastanza evidente che esiste un simbolo solo. Quel simbolo tra l'altro è stato pure modificato per scriverci di sotto Berlusconi per Bacheca. E se il PDL sta nella coalizione del sindaco Bacheca, ovviamente il popolo della libertà appoggia Roberto Bacheca sindaco. Tra l'altro abbiamo sentito alcuni di questi amici, per cui Antoniozzi, che mi ha preso le distanze da ogni tipo di iniziativa contro il popolo della libertà santamarinallese locale, che comunque prima, ripeto, di poter freggiarsi, di mettere il simbolo in una delle sette liste che mi appoggiano, è stato addirittura avallato dal presidente Angelo Alfano. Quindi penso di non avere dubbi su chi appoggia il PDL a santamarinallo. Ci sono stati comunque anche altri esempi di onorevoli che singolarmente appoggiavano altri candidati sindaco. Però quando mi hanno anche spiegato, quando avvengono questi casi, solitamente il partito non dà il simbolo a nessuno dei candidati sindaco. Qua abbiamo il simbolo, prova più tangibile di questo penso che non vi possa essere. Gian Piero, hai altre domande che non siano lette? Sì, ho veramente altre domande perché sa benissimo che ormai da tantissimi anni vivo a Santamarinella, anche di città non nato, per cui conosco Roberto da tantissimi anni, già da quando era piccolino, per cui l'ho visto crescere e l'ho visto diventare anche sindaco. Ecco, una domanda importante, tanto per venire ai temi importanti di Santamarinella, è questa. Quali saranno le grandi opere che lei realizzerà naturalmente nel caso in cui dovesse ottenere il secondo mandato? Beh, grandi opere, ripeto, il primo quinquennio mi sono un po' concentrato con la mia squadra a risolvere problemi logistici e strutturali della città. Il secondo quinquennio lo vorrei concentrare sullo sviluppo occupazionale, sul turismo e sulle realtà che possono avere un'incidenza per poter dare risposte sul settore del lavoro. Però alcune opere importanti ancora esistono e vanno sicuramente messe in cantiere nella nostra città. Ne vogliamo fare quattro, non vogliamo sicuramente farne quindici come abbiamo fatto in questi cinque anni. È il sottopasso di via Valdambrini, quello è collegato direttamente alla riqualificazione del cementificio, con l'unica di urbanizzazione pagheremo quel tipo di percorso e troveremo i fondi quindi per farlo. C'è anche la copertura dei progetti perché quando se ne parla bisogna anche dire come si raggiungono gli obiettivi. Abbiamo in mente di fare la strada di collegamento tra Valdambrini e via delle colonie e abbiamo ovviamente in mente di fare il terzo stralcio del lungomare Marconi. Oltre che una strada di collegamento a Santa Severa tra Lungomare Pirgi e via Cartagine. Un'altra domanda che volevo farle Santa Marinella, appunto come dicevo all'inizio della trasmissione, con il fatto che si è superato il limite dei 15 mila residenti ha cambiato il sistema elettorale quindi ci sarà un doppio turno rispetto al sistema sotto i 15 mila che è un maggioritario attorno unico in cui chi ha la maggioranza diventa automaticamente sindaco. Lo stesso sistema con cui è stato eletto 5 anni fa. Questo cambia un po' le strategie secondo lei? Cambia le strategie per il secondo turno. Ovviamente noi tentiamo di vincere al primo turno proprio per evitare che vi siano i soliti balletti e si pensi magari in quella fase a fare più accordi che riguardano Poltrone piuttosto che il bene della città. Devo dire che abbiamo sette liste qualificate fatte di persone che hanno sempre in alcuni casi fatto politica che vengono da altre espressioni politiche che l'altra volta, almeno dieci, l'altra volta non erano candidate con il sottoscritto e hanno preso una media di 100 voti per uno e stavolta sono candidate con il sottoscritto. Sette liste che sono rappresentative del centro-destra, alcune civiche. Certo è ovvio che se non si riuscisse a ottenere al primo turno la vittoria bisognerà colloquiare con gli altri attori che hanno partecipato a questa battaglia elettorale. Dedugo che ci sia anche in quel frangente, visto che ho molti amici candidati in liste, non vuoi usare un termine poco modesto, ma è liste che possiamo anche forse definire minori che ovviamente sarebbero disposti a appoggiarci al secondo turno senza parlare troppo di accordi del loro leader. Quindi lei esclude o non esclude apparentamenti? Non con singoli candidati? Apparentamenti ufficiali, vediamo a chi scatta il consigliere e poi vediamo che ragionamenti possono nascere. Gian Piero. Sì, poi quest'anno con il nuovo sistema a doppio turno è cambiato anche la formazione del consiglio comunale perché ci saranno 11 consiglieri di maggioranza e 5 di minoranza. Ecco, come potrebbe nascere una crisi per il sindaco nel caso in cui non avesse più la maggioranza? Quest'anno cambia tutto perché noi siamo stati abituati nei 5 anni antecedenti ad avere assessori che erano anche consiglieri comunali. Questo forse è il fatto più importante del cambiamento del nuovo consiglio comunale che ci saranno 5 assessori e per legge saranno tutti quanti esterni. Quindi è evidente che sarà più difficile mantenere il consiglio comunale poiché chi faceva l'assessore bene o male aveva un ruolo tra virgolette esecutivo all'interno della giunta e quindi poteva operare. I consiglieri comunali possono fare solo gli atti di indirizzo e di competenza del consiglio comunale. Gli assessori saranno l'organo esecutivo. Quindi dovremmo trovare il giusto modo per far collegare i consiglieri con gli assessori. È vero che oggi con il nuovo sistema il sindaco si sceglie tutti i suoi assessori ma è vero pure che se il sindaco sbaglia a scegliere gli assessori i consiglieri lo mandano a casa. Quali sono le sue proposte per i giovani? Per i giovani in santo abbiamo iniziato a fare alcuni percorsi che ripeto secondo me la cosa principale su cui ci dobbiamo impegnare per il secondo mandato è il lavoro. Perché i giovani è quello a cui ci chiedono maggiormente quando giriamo per la città perché sono difficoltà che esistono in questa fase storica reali. Non è che stiamo parlando di cose. Poi tra l'altro io ripeto sono sempre stato un sindaco che non si è mai nascosto in un autore d'avorio, ha ricevuto 6.000 cittadini quindi so bene le difficoltà e i problemi dei miei cittadini. Oltre a quello è ovvio che abbiamo iniziato un percorso che riguarda alcune strutture sportive. Per esempio la piscina comunale è frequentata dai giovani. Abbiamo finito l'oratorio, certo è un altro tipo di gioventù però è una gioventù che frequenta sempre un percorso culturale ma anche messa a disposizione l'amministrazione comunale per poter attivare la propria passione. Abbiamo realizzato in uno dei famosi parchi riqualificati che abbiamo trovato distrutti all'inizio del mandato uno skate park dove ci sono molti giovanissimi che lo frequentano forse pure troppo visto che i vicini si lamentano che sentono troppo rumore. Poi è ovvio che io penso che il giovane deve essere parte attiva come sono state alcune realtà, alcune associazioni che ci hanno fatto delle richieste, delle proposte e noi gli siamo stati vicini per portarle avanti. Parlo dal punto di vista recreativo ovviamente perché ripeto dividere e scindere il tuo impegno deve essere per il lavoro e per i giovani. Il secondo impegno se ci sono realtà giovanili che sono in grado di presentarci delle proposte possono essere accolte attraverso anche l'esame delle risorse di bilancio che l'amministrazione comunale ha a disposizione siamo ben disponibili a colloquiarci e a essere al loro fianco come lo siamo stati nei cinque anni passati. Vi faccio una domanda, solitamente non si fa a un sindaco uscente però ci sono anche stati casi di questo genere. Perché ha deciso di ricandidarsi? Sono stati cinque anni molto duri, è stata un'esperienza importante ho maturato l'esperienza per fare il sindaco perché comunque ovviamente non è un lavoro che uno è abituato a fare se non quando lo fa. Mi sono ricandidato perché mi sono sentito tra l'altro il peso di 112 persone che ho coinvolto in questa avventura che sono i miei candidati. Ho sentito il peso di molte persone che senza la mia candidatura non avrebbero avuto possibilità di creare una nuova figura nel centro-destra perché comunque ho fatto anche il sindaco non dico accentratore ma abbastanza presente nei cinque anni passati quindi alla luce di tutto questo non volendo lasciare quel percorso partitico ma anche civico che abbiamo iniziato ho deciso di ricandidarmi. E poi perché la battaglia oggi come cinque anni fa è tra chi pur avendo fatto qualche sbaglio ha pensato al bene comune e chi è rappresentante dei soliti interessi in città. Penso che i cittadini lo sanno, mi vengono a cercare, me lo dicono quindi sono abbastanza convinto di quello che sarà l'esito. Gian Piero. Grazie. Allora sindaco, due cose importanti lei prima l'ha citata è il discorso del, diciamo così il modo come far divertire i giovani a Santa Marinella oltre ad averli trovato ovviamente al lavoro e il discorso degli impianti sportivi che sono due cose molto importanti. La prima è questa non sarebbe il caso di creare quantomeno un centro di aggregazione per i ragazzi che potrebbe essere anche una sala polifunzionale di grosse dimensioni che potrebbe essere collegata non so, alla realizzazione della fede comunale questa è una domanda e la seconda questione è quella degli impianti sportivi che abbiamo visto insomma negli ultimi tempi stanno creando qualche problema il palazzetto dello sport purtroppo il tetto come lei fa è rovinato quindi ci piove dentro il campo di calcio ormai l'erba non esiste più e la copertura della tribuna come lei ben sa da circa due anni è sotto sequestro non per problemi di quella copertura per altre coperture però purtroppo c'è la necessità di fare un intervento sopra quella copertura per renderla agibile. Facendo i nostri impianti tra l'altro siamo una piccola cittadina che grazie però al lavoro ottenuto e fatto anche in passato si trova ad avere moltissimi impianti innanzitutto dico subito una cosa sul campo sportivo mi sembra evidente che almeno l'erba poteva essere curata dal gestore ma detto ciò nel 2014 questo problema sarà risolto perché il campo sportivo sia che sia il sindaco Roberto Bacheca sia che sia il sindaco uno degli altri candidati dovrà essere messo a bando ciò significa che andrà come tutte le altre strutture sportive io non riesco a capire ad esempio perché noi dalla piscina comunale tiriamo fuori 36 mila euro che vanno depositati alle casse comunali per l'affitto di quella struttura e dal campo sportivo non solo non si riesce a tirare fuori un euro per la pubblica comunità ma tra l'altro neanche si riesce a mantenere la gestione ordinaria di quelle che sono le cose più semplici quindi se uno non è in grado di farlo questa cosa si può benissimo rimettere a bando la struttura va a chi è più capace e competente e ritornerà ad avere un minimo di splendore su palazzetto dello sport abbiamo finanziato adesso un piccolo intervento di 40 mila euro che serve appunto per evitare che ci si piova che piova dentro la struttura però dovete anche sapere che abbiamo meritato il palazzetto sullo sport su un terreno che neanche da l'amministrazione comunale io non so come qualche anno fa si facevano le cose però quando io faccio un'opera pubblica prima devo fare l'esproprio una volta fatto l'esproprio posso edificare qualcosa di pubblico è stato costruito su un terreno che ancora è dell'Arsial stiamo parlando di cose che sono sconcertanti sotto ogni profilo quindi noi stiamo avviando tutte le azioni utili a fare l'esproprio avendo già fatto contatti con l'Arsial sono ben propensi di levarsi questa rugna perché tra l'altro ci dobbiamo pagare anche l'Igu però è un percorso che prevede l'esproprio individuare le carenze fare un bando anche lì e farlo gestire le realtà sportive perché ormai le amministrazioni pubbliche non sono più in grado di portare avanti questi carrozzoni che servono solamente in alcuni casi nei migliori a cercare di abbattere un po' i costi sportivi ma nei peggiori diventano i soliti carrozzoni utili a dare qualche posto occupazionale ma dobbiamo fare su un'altra base su un'altra logica è quello di darlo in gestione a chi poi li può mantenere seriamente l'altro impianto sportivo me lo sono perso? no, basta il terreno sportivo sarebbe il campo di Santa Fevera e come lei sa era stata avanzata una delibera che consentisse l'esproprio sempre anche lì del terreno della Gebra e quella parte del terreno del campo sportivo che appartiene alla Gebra di espropriarlo e quindi poter realizzare anche lì il campo in sintetico anche lì è stato fatto un campo sportivo su una società regionale che era proprietaria poi è stata disciolta è entrata tutto nel patrimonio regionale però metà campo sta su terreno che non è comunale anche lì stiamo avviando tutti i percorsi utili a espropriarlo e a renderlo pubblico peraltro comunque nonostante tutto voglio dire che quel campo paga un'affitto al comune vi faccio una domanda per quanto riguarda questa attualità anche nazionale che cosa pensa dell'Imu sia come politico sia come amministratore beh io sono stato con Aleman a Roma per togliere l'Imu sulla prima casa nonostante tutto noi l'Imu l'abbiamo mantenuto al 4 per 1000 vedo in realtà l'imitrofe che l'hanno tutte aumentate minimo minimo al 5 e mezzo come sapete al 4 per 1000 è il minimo possibile la minima possibile da imporre ai nostri cittadini ovviamente sono favorevoli tutt'a più si trovano le risorse magari non con altre tasse ma per non uccidere i comuni questo mi sembra ovvio perché se togliamo l'Imu e questo peso spetta solo e soltanto ai comuni diventa veramente impossibile garantire servizi minimi alla nostra città perfetto adesso lasciamo spazio alla pubblicità e torniamo subito dopo col confronto tra i candidati salve salve grazie a tutti